Che cosa ha portarsi dietro da questo test contro un avversario rodato che ha iniziato prima la preparazione e che ovviamente ha un tasso tecnico molto importante? Dal punto di vista tattico la sofferenza, perché abbiamo sofferto, abbiamo sofferto la loro qualità, la loro intraprendenza, anche dal punto di vista agonistico, quindi fisico abbiamo sofferto perché comunque noi siamo al completamento della prima settimana, loro sono molto più avanti e quindi anche dal punto di vista fisico abbiamo patito, quindi c'è da portarsi questo, la squadra comunque ha saputo anche soffrire nonostante il risultato, abbiamo cercato comunque di fare il nostro gioco, non è stato semplice perché ripeto loro venivano sempre addosso, ci montavano sempre su e quindi diventava difficile, abbiamo avuto anche noi le nostre situazioni ma abbiamo sofferto e quindi ci portiamo dietro questo. C'è stato però un momento mister a metà del primo tempo dopo un avvio molto importante da Lazio nel quale con ordine la squadra aveva preso un po' le misure e aveva provato a creare anche qualcosa, aveva avuto una buona palla mancoso? Sì però abbiamo fatto troppi errori in uscita, abbiamo creato qualcosina sia nel primo ma anche nel secondo tempo, un salvataggio sulle linee, un colpo di testa di De Luca, però abbiamo fatto troppi errori in uscita, lì abbiamo sofferto la pressione e la fisicità della Lazio e non abbiamo avuto pazienza nel palleggiare, nel girare palla, abbiamo forzato troppo le giocate dentro al campo con giocatori di spalle, abbiamo perso palla più volte e in più occasioni loro ci hanno messo in difficoltà e hanno anche fatto gol in situazioni del genere quindi questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, naturalmente non incontreremo la Lazio nel nostro campionato quindi con quella qualità ma ci sono squadre di grande qualità quindi dobbiamo stare molto attenti se vogliamo fare un campionato da protagonisti dobbiamo essere bravi a capire subito quello che ci aspetta in Serie B Chiedo allora un'ultima cosa, visto che in campionato non si affronterà la Lazio, quanto è importante soprattutto per i tanti giovani che ha schierato oggi affrontare avversari di livello come quelli della Lazio per crescere soprattutto? Sì è importante per crescere ma i giovani, ripeto, c'è bisogno di lavorare con i giovani, i giovani non è che dall'oggi al domani diventano esperti, bisogna lavorare e bisogna anche pagare dazio bisogna che sbaglino per capire determinate cose, purtroppo è così, quindi bisogna avere pazienza, bisogna lavorare tanto e bisogna anche, ripeto, aspettarsi l'errore perché ci sta e che è l'errore che ti fa crescere più di tutti Grazie a tutti